Nei sacchi neri e bianchi, i corpi senza vita di 18 palestinesi uccisi in un nuovo raid israeliano su Rafa, nel sud della striscia di Gaza, poche ore dopo l'approvazione della risoluzione ONU per il cessato il fuoco tra le vittime, nove bambini. Volete sapere la loro età? Un anno, un anno e mezzo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto anni. Non avevano niente a che fare con la guerra e il grido di dolore di questa donna sfollata da Gaza Nord nella guerra ha perso tutti i familiari ed ora non ha più nessuno. Sale a 32.400 il bilancio dei palestinesi uccisi dagli israeliani dal 7 ottobre. 81, nelle ultime 24 ore, l'esercito di Tel Aviv parla solo di 60 obiettivi terroristici colpiti nella giornata di ieri nella striscia. La Mezzaluna Rossa dichiara che l'ospedale Al-Amal a Khan Yunis, da giorni assediato dalle forze israeliane, ha smesso definitivamente di funzionare. Feriti e medici sono stati costretti ad evacuare la struttura bombardata più volte dalle forze di occupazione, denuncia l'organizzazione umanitaria. Le brigate al Kassam a baraccio armato di Hamas hanno rilasciato questo video in cui si vedono i miliziani palestinesi attaccare carri armati israeliani a Gaza City, ma non è possibile stabilire la data in cui il filmato è stato girato. A Gaza la situazione resta disperata. Secondo l'Unicef c'è un bagno ogni 850 persone e una doccia ogni 3.600. Hamas ha chiesto lo stop dei lanci aerei degli aiuti umanitari, dopo che sette persone sono morti annegate mentre cercano di recuperare gli aiuti paracadutati in mare.